E uno sgredito ospite il cui arrivo nel nostro territorio è legato anche ai cambiamenti climatici, è la cimice asiatica, un vero incubo per l'agricoltura. Ne parliamo con Raffaele Drei, presidente del Centro Ricerche di Produzioni Vegetali. Buongiorno e benvenuto. Grazie. La cimice asiatica è presente sul nostro territorio dal 2012. Perché è così pericolosa? Ma è così pericoloso perché è un insetto che si è insediato sui nostri territori solo recentemente, quindi sconosciuto e ha trovato un ambiente estremamente favorevole alla propria moltiplicazione e divenendo un vero e proprio flagello. Si moltiplica una capacità moltiplicativa enorme, un insetto femmina depone 250-350 uova per due generazioni all'anno e quindi ha una capacità veramente di invasione veramente forte. E infatti l'estate scorsa c'è stata una vera e propria invasione della cimice asiatica che in alcune zone ha danneggiato fino al 40% delle coltivazioni. Quali sono quelle più attaccate? Ma la cimice mangia praticamente tutto, ovvero punge praticamente tutto. Però è chiaro che i danni maggiori li riscontriamo su alcune culture frutticole, in modo particolare il pero, il melo, il kiwi, il pesco. Quindi le culture tipiche, tradizionali dell'Emilia Romagna, sulle quali il danno può essere veramente devastante. Inoltre diventa fastidioso anche per la popolazione perché sappiamo che in molti casi entra nelle case, sverna nelle case, passa i mesi invernali, proprio nelle fessure degli infissi, delle abitazioni. E quindi ha anche questo tipo di effetto, tra virgolette, secondario. Per affrontare il problema con mezzi il meno possibile chimici è stato messo a punto un progetto denominato IALIS, coordinato dal Centro Ricerche e Produzioni Vegetali. Di che si tratta? Sì, noi abbiamo coordinato questo progetto che è stato cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, la quale evidentemente va in ringraziamento e che ha innanzitutto dovuto riscontrare la debolezza delle chimiche di fronte ad un insetto così forte e resistente. Quindi abbiamo dovuto conoscere innanzitutto come questo insetto vive, come si muove, come si riproduce e poi mettere a punto alcune tecniche di contenimento che sono state in modo particolare. Le reti anti-insetto, quindi una barriera fisica ove possibile da anteporre, da mettere sopra le colture, in altri casi lo studio di insetti che parassitizzino queste chimiche, che si nutrano di queste chimiche. Il lavoro da fare tuttavia è ancora molto lungo e è una battaglia dove stiamo riscontrando un pareggio tra l'agricoltura e le chimiche. Grazie a Raffaele Drei, Presidente del Centro Ricerche di Produzioni Vegetali.